Ciao a tutte ragazze, allora bentornate in questo nuovo video Allora, questo è un video di pratica, quindi andremo a realizzare una pulizia perfetta del giro cuticolo in fase di refill Prima di iniziare però, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram E qua avete il mio nickname, in info box c'è il link diretto al canale Allora, quindi parliamo di pulizia del giro cuticole, ma soprattutto parliamo di una pulizia veloce da salone ed efficace al tempo stesso Quindi ci saranno, questa pulizia del giro cuticole sarà divisa in due step Andremo per prima cosa a fare il primo step di pulizia in fase di preparazione della lamina naturale E il secondo step sarà poi, invece, sarà effettuato a struttura limata Quindi una volta che la nostra struttura è stata limata, andremo a definire il nostro giro cuticole Andando appunto a pulirlo alla perfezione, tagliare la cuticola, eccetera Allora ragazzi, vi assicuro che con questo metodo avrete un giro cuticola perfettamente pulito Ma soprattutto perfettamente privo di granelli di polvere che sono quelli che poi ci danno fastidio nell'applicazione del monocolore Sicuramente lo step in più vi porterà via un pelino più di tempo Ma vi assicuro che è una cosa molto veloce Io lo faccio su tutte le clienti, in salone E non è una cosa che vi porta via chissà quanto tempo Ma il risultato finale è top Quindi ora andremo a lavorare su un dito Io vi farò vedere tutta la preparazione prima E dopo con struttura eseguita lo step finale Quindi vedremo tutto passo passo Vediamo ora le punte che ci servono Ovviamente per andare ad effettuare questa pulizia del giro cuticole Abbiamo bisogno di due punte per una manicure veloce da salone In questo caso io vado ad utilizzare una punta cono troncato Fascetta blu Questa qua Mentre per la pulizia del giro cuticole Utilizzerò la punta dritta Fascetta rossa Queste due punte sono della NAE Quindi le trovate tranquillamente sull'e-commerce della NAE Vi lascio il link in descrizione E queste sono per il primo step ragazze Il secondo step di pulizia invece avviene a struttura limata e bufferizzata Quindi praticamente quando abbiamo fatto la nostra struttura Dobbiamo pulire il giro cuticole Tagliare le cuticole per poi applicare il colore Andremo ad utilizzare altre due punte E giustamente andremo ad utilizzare la forbicina La forbicina io utilizzo una Stalex Pro Exclusive 10-1 Queste qua sono le Magnolia Sono di Stalex appunto Quindi andrò ad utilizzare queste forbicine E utilizzeremo due punte Utilizzeremo una spazzolina Che è proprio una punta, non è Quindi andremo ad utilizzare una spazzolina E una punta, guardate un po', da Soft Manicure Quindi utilizzeremo la punta Soft Manicure Se non avete la punta Soft Manicure Potrete utilizzare ad esempio una punta come questa Che è una punta oliva, piccolina Vi consiglio una punta molto di dimensioni ridotte Proprio perché deve avere una dimensione tale Da potersi inserire sotto la cuticola Senza che parte della punta vada a toccare il rivestimento Perché sennò si andrebbe a rovinare sia la struttura sia la punta Quindi scegliete per questo secondo passaggio una punta molto piccola Io andrò ad utilizzare la Soft Manicure Perché mi trovo molto bene per questo passaggio Allora ragazzi, sono andata a smontare il prodotto Quindi lavoriamo in fase di refili Ok? Sono andata ad abbassare il prodotto Accorciare la lunghezza perché io andrò a ricostruire Ma voi comportatevi come in un classico refili Ora andiamo ad utilizzare la punta cono troncato Andremo in forward per i destri In reverse per i mancini Lavoriamo a 11.000 gilli Quindi andiamo con questa punta A spingere indietro la cuticola Alzarla E andremo ad opacizzare l'unghia naturale Come per un normalissimo refili Spazzolo ovviamente E la mia cuticola al momento è così Guardate, la cuticola sotto alla piega prossimale è ancora tutta presente Quindi ora andiamo a alzare la tasca Per alzare la tasca utilizziamo la punta dritta I giri sono sempre in 10-11.000 giri Lavoriamo dal centro verso destra e dal centro verso sinistra Quindi con questa punta io mi vado a alzare la tasca E vado a pulire sotto Una cosa che dovete fare è mettere sempre la spazzolina qua In modo che andate sempre a pulire Una volta che sono andata a pulire il mio giro cuticole Dal centro verso sinistra Vado a pulirmelo dal centro verso destra Quindi spengo la fresa Cambio i giri di rotazione E andiamo in reverse A pulire il giro cuticole dal centro verso destra Ok Pulisco anche i valli laterali E faccio questo passaggio ragazzi Questo passaggio lo dovete fare solo ed esclusivamente se avete una punta Che ha la punta arrotondata Non si fa con le fiamme Non si fa con tutte le punte Che hanno una punta appuntita Perché questo step che ora andiamo a vedere insieme Vi buca la pelle Quindi lo facciamo Uno se abbiamo manualità Siamo esperte nella dry mani Pur due se abbiamo una punta Che ha la testina arrotondata Parto da sinistra E delicatamente mi vado ad inserire Dentro al giro cuticole Cuticole lavorando da sinistra verso destra Ok E questo è quello che ho ottenuto Quindi un giro cuticole pulito Ma ho ancora qualche residuo di cuticola È normale Ora io le cuticole non le taglio Perché rischierei poi di far sanguinare la pelle in fase di limatura Quindi procederò con l'applicazione dei preparatori La base Andrò a effettuare la mia struttura E andrò a limare la mia struttura E ci vediamo a struttura terminata Per definire il giro cuticole Allora eccoci arrivati alla struttura terminata È arrivato il momento di effettuare la seconda parte Della nostra dry manicure da salone Come vedete io ho ancora un po' di residui di polvere Magari la base può avere toccato leggermente il giro cuticole E insomma abbiamo qualche residuo In più dobbiamo andare a tagliare le cuticole Quindi ora che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la nostra punta Questa qua soft manicure Come vi ho fatto vedere prima E andiamo a pulirci il giro cuticole Rimaniamo con i giri veramente veramente bassi E lavoriamo prima in forward e poi in reverse Quindi io sto sui 5000 giri Non di più E vi faccio vedere l'inclinazione della punta com'è Parto dal centro E vado verso sinistra Guardate l'inclinazione della punta È all'incirca a 35 gradi Senza andare a toccare Non vado a toccare la mia struttura Quindi vado dal centro verso sinistra E mi vado a pulire il mio giro cuticole Tanto quanto ne avrò bisogno Ok ci siamo E ora vado a mettere i giri in reverse E lavoro dal centro verso destra Ripeto ragazze I giri sono bassissimi Sono 5000 giri Perché noi abbiamo già stressato troppo la nostra cuticola Non dobbiamo andare a lavorare con giri troppo alti Utilizzo una punta di questo tipo Proprio perché la punta soft manicure Mi permette di essere già delicata in partenza Con una punta veramente blanda Ok Una volta che ho passato la punta soft manicure Cosa vado a fare? Vado a tagliare le cuticole Ma prima spazzolo Quindi spazzolo Vado ora a tagliare le cuticole Se voglio Prima di tagliare le cuticole Posso andarle a sollevare col mio bastoncino Cosa che devo necessariamente fare Anche prima di andare a sollevare la tasca Nella prima fase di dry manicure Che io mi sono dimenticata di farvi vedere Quindi mi raccomando Nella prima parte della nostra dry manicure Ricordatevi sempre di spingere le cuticole E poi passare con la punta cono troncato E poi la punta dritta Arrivato il momento del taglio Quindi andiamo ad effettuare il taglio Con le nostre stalex Io ho da tagliare veramente pochissimo Quindi andrò ad eliminare solo la porzione di cuticola Effettivamente è da tagliare Ma ragazze è veramente pochissima Non stiamo a cercare di tagliare Quello che poi non c'è Quindi una volta che ho perfettamente pulito il giro cuticole Ho tagliato la cuticola La cuticola si presenterà così Ok adesso Una volta che il giro cuticole è pulito Per eliminare al 100% la polvere Io cosa faccio? Vado innanzitutto ad inserire subito la mia spazzolina Però prima vado a fare questa cosa qua Guardate bene Spazzolina alla mano Prendo un pochino di Purify E lo vado a mettere qua Voi contate come se qui avessimo 5 dita Ok quindi mettete un po' di Purify sulla spazzolina E poi andate a spazzolare in questo modo In questo modo la spazzolina piena di Purify O di cleaner in questione Andrà a pulirci la superficie della nostra unghia E del nostro giro cuticole Con la superficie ancora bagnata Spazzolina alla mano 5000 giri Ok? Bassi 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 Mi vado ad inserire perfettamente sotto le cuticole Lo vedete bene? Allora guardate bene qua Guardate la spazzolina Lo vedete che si va ad inserire sotto la cuticola? Questa spazzola non lo riesce a fare Questa sì Per questo motivo io vado ad utilizzare questo tipo di spazzola Proprio perché in questo modo avrò un giro cuticole Perfettamente pulito Nessuno mi vieta di andare a pulire anche la superficie dell'unghia Finito Ora io andrò semplicemente a lucidare Ma se avessi dovuto stendere il colore Sarei andata col bassoncino leggermente A spingere ma proprio delicatamente indietro la mia piega prossimale E avrei proceduto poi con l'applicazione del colore Guardate la piega Ok? Il giro cuticole è perfettamente pulito Senza un granello di polvere Questa è secchezza Senza un granello di polvere E perfettamente pulito Senza residui anche di cuticola E così potete andare a procedere con il vostro lavoro da salone Quindi andrete ad applicare un top coat oppure un colore Io ora andrò semplicemente a lucidarla Quest'unghia E il risultato finale è questo qua Ovviamente il buchino immancabile nella ricostruzione non può non esserci Cioè ma comunque Perché non abbiamo un qualcosa che ci va a rovinare la struttura? Ovvio Quindi ragazze questo è il risultato finale Ok? Così poi voi procedete con il colore e il top coat Ci tenevo a farvi questo video perché io stessa mi sono spesso imbattuta Ho sempre cercato di trovare un metodo veloce Ma al tempo stesso efficace per eliminare bene le cuticole Per togliere la polvere Soprattutto fondamentale la polvere che si insinua nel giro cuticole E con questo passaggio devo dire della spazzolina mi sono trovata divinamente Fatemi sapere se utilizzavate già la spazzolina Fatemi sapere se questo metodo di lavoro vi piace Lo proverete Insomma aspetto i vostri feedback Io con il mio dito rotto Anche perché nel frattempo sto girando un altro video Su come ho realizzato queste unghiette Quindi insomma mi sono rotta i guanti Quindi ragazze direi di concludere qua il video Io spero che questo tipo di video vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate come sempre Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua E noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video Ciao ragazze